360 operai di L'Aquila e di Sulmona senza più lavoro, stipendio e cassa integrazione, la chiusura definitiva di una fabbrica che era il motore dell'economia locale, ovvero nuovi disoccupati in un'età in cui è quasi impossibile ricollocarsi in un territorio già martoriato dalla crisi economica e anche dal post terremoto. Così rischia di concludersi nel peggiore dei modi la vertenza della FIMEC, durata anni, la stricata di roboanti promesse, specie in campagna elettorale, di piani di rilancio che nessuno ha mai visto, di commissariamenti che non hanno portato a nulla. Oggi gli operai sono tornati in fabbrica per una affollatissima assemblea, che sarà il primo atto di una nuova e forse definitiva fase di mobilitazione. La situazione è precipitata allorché nel decreto mille proroghe non è stata inserita la proroga della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori FIMEC. Questo significa niente più assegno di 700 euro mensili per le centinaia di cassa integrati e soprattutto il segnale che il governo ha intenzione di liquidare l'azienda e non intende spendere un euro per il suo rilancio. Bocche cucite da parte dei lavoratori, anche questo segno dei tempi, parlano solo i sindacalisti. Ad oggi il governo ha cancellato questo provvedimento che era nel mille proroghe e praticamente dal primo di gennaio questi lavoratori sono senza nessun ammortizzatore sociale. Quindi a questo punto il commissario che guida la cosa deve dire al giudice il da farsi, che si avvia verso la chiusura praticamente. Se non interverranno soluzioni industriali c'è un percorso di cassa integrazione per liquidazione, mobilità di 4-3 anni a seconda l'età e poi c'è niente, c'è discupazione.